Ma c'è Kakà in azione, vado a mo' di radio cronica, Kakà in repercussione, scacca l'ingresso in aria, ancora, Kakà, doveva portare, Kakà, rete, 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 Kakà Grandissimo, ha fatto scontrare i due difensori del Manchester e poi con grande frendezza la messa a sinistra di Van der Sarra, la sotterra non ci poteva arrivare Qui sono stati un po' polli i difensori centrali del Manchester ma davvero fantastico Kakà in questo caso, bravissimo Ronaldo contro Kakà, il massimo del calcio mondiale, sta vincendo Kakà E' stato bravo sul primo colpo di testa e poi c'è questo scontro dei difensori del Manchester, davvero poi qua freddo, freddito Il fenomeno, parte Kakà, zona tiro Kakà, parte il tiro, va a versare in angolo E ti posso dire che qui Van der Sarra è stato molto bravo perché la palla è battuta a un...